Nonostante l'incertezza del momento, l'attività teatrale di arti e spettacolo non si arrende al buio delle sale e presenta la 14esima edizione di Strade, la rassegna di teatro dello spazio Nobel per la pace di San Demetrio Nevestini. Con questa pandemia in qualche modo si stavano interrompendo degli appuntamenti ormai stabili con gli spettatori e in qualche modo stavamo perdendo proprio il rapporto personale che non è fatto soltanto da produttore e fruitore di un evento culturale ma si stabilisce attraverso la stimolazione che questi spettacoli hanno sui nostri spettatori e su tutto ciò che nasce intorno a questo incontro a causa di uno spettacolo ma che dà invece la possibilità a tutti noi di vederci, discutere sui temi e soprattutto riflettere anche sui temi culturali che ci appartengono in questo momento. Sei spettacoli di storie di vita attuali e paradigmatiche che raccontano il paese, le esistenze con riflessioni ora intime, ora spietate e ora eroniche, con un occhio sempre aperto sul passato e sulla storia. Questo è un cartellone che inizia da questa domenica e finirà in marzo e sono tutti appuntamenti che trattano in modo a volte leggero, a volte più drammatico i temi che noi stiamo vivendo. Il primo spettacolo si chiama Eterna Giovinezza è una coproduzione che noi abbiamo fatto con il Teatro delle Temperie e il Teatro Tedacà di Torino e Bologna è stato uno spettacolo che è già stato rappresentato con successo sia in Piemonte che in Emilia Romagna e finalmente lo riusciremo a presentare nel nostro teatro perché siamo stati fermi per diverso tempo. Noi abbiamo colto l'ultimo raggio di luce per cercare di proporre una stagione e ristabilire dei rapporti con gli spettatori. Tutti gli spettacoli si svolgeranno la domenica pomeriggio a partire dalle 18.00. In sala sarà previsto, oltre al rispetto delle norme per la sicurezza degli spettatori, un distanziamento maggiore di quello richiesto dalla normativa con un limite autoimposto al 70% di capienza della sala.